Forse manca qualche gol dal centrocampo. Allora ragazzi, c'è veramente da discutere su questa cosa perché è allucinante. Bentancur, intervistato ieri, parte il fatto che comincia l'intervista con questa dichiarazione. Stiamo bene, la strada è quella giusta. Allora, rendetevi conto se è possibile che noi, uno, stiamo bene, non è vero. Due, che la strada è quella giusta, non è vero neanche quello. La strada non è quella giusta perché i giocatori non stanno seguendo l'allenatore, non seguono i dettami. Come ho detto in un video precedente, Buffon l'ha fatto capire, scherzando, ma dal punto di vista diceva la verità, cioè che sono tutti contro Sarri all'interno della società, presidente compreso. La strada è quella giusta? Assolutamente no, perché si stanno vedendo delle prestazioni, ma che dire, brutte, dire poco, da parte della squadra. E ritorniamo al principio. Forse manca qualche gol da parte del centrocampo. Allora ragazzi, vi do questo dato, vi preannuncio di non spaventarvi. La Juve, mi sono andato a rivedere le partite perché io continuo a dire, ogni video, ogni pre-partita, dico sempre, mi aspetto di vedere un gol da parte del centrocampo, perché questo centrocampo non segna mai, ok? Mai. È una roba incredibile. Dato che vi propongo. Nelle ultime 23 partite, ripeto, perché forse è talmente difficile da capire, una cosa del genere, è talmente allucinante che, ve lo ripeto, nelle ultime 23 partite, ok, il centrocampo ha segnato la bellezza di quanti gol? Due. Due gol. Praticamente noi abbiamo sette centrocampisti e di questi centrocampisti fanno un gol ogni 11 partite. Cioè è una roba incredibile. Io un centrocampo, dal punto di vista offensivo, che fa così pochi gol, penso di non aver, in una squadra di, tra i massimi livelli e ai vertici del calcio mondiale, che poi la Juve non è ai vertici del calcio mondiale, ecco, comunque, penso che un dato del genere è di non averlo mai visto nella storia del calcio. Ma è possibile, dico io, che fanno un gol ogni 11 partite di media, i centrocampisti, tutti i centrocampisti compresi, eh? Di questi gol c'è il gol di Ramsey contro l'Everkusen, no scusate, contro la Lokomotiv, rubato a Ronaldo, tra l'altro, e il gol che ha fatto lo stesso Ben Tarkur contro la Roma. Basta! Cioè praticamente noi da fino di ottobre, ok, quindi c'è passato novembre, dicembre, gennaio, febbraio, in quattro mesi sono stati fatti due gol da parte dei centrocampisti, cioè loro fanno un gol ogni due mesi. Ora io, non lo so, continuiamo a vedere cosa dice Ben Tarkur quando il giornalista gli fa questa domanda, no? Perché il giornalista gli dice, stanno arrivando delle critiche sul centrocampo, delle critiche, ma voglio dire, non segnalo mai, mai! Ti senti di rispondere, gli dice, guarda, è stato fin gentile perché la situazione è talmente drammatica che il giornalista gli ha detto, ti senti di rispondere, nel senso, guarda, è talmente una roba incredibile che puoi anche far silenzio stampa, perché... Allora, forse manca qualche gol, inizia Ben Tarkur, ma come ho detto prima, non stiamo segnando molto, ma siamo in corsa su tutti e tre i fronti. Ora, Rodrigo, caro Rodrigo, cioè non è che se siamo in corsa su tutti i fronti è una cosa per cui onorarsi all'ennesima potenza, perché se tu sei in corsa per tutti e tre i fronti, cioè Coppa Italia, Campionato e Champions, ma continui con questo andamento, con questo stiamo andando bene, che non è vero nulla, però sono probabilmente delle dichiarazioni di circostanza che Ben Tarkur è obbligato a fare, se tu continui ad andare avanti così, passerà poco tempo che ti assicuro che non sarai più su nessuno di questi fronti, ok? Perché con le prestazioni che stai facendo adesso, considerando che la squadra può veramente perdere contro chiunque, non si va per nulla lontano, ok? Noi, continua Ben Tarkur, noi facciamo il nostro lavoro, quello di recuperare palla, stare ordinati e far giocare la squadra. Anche qua, ragazzi, cioè c'è da aprire una parentesi gigantesca. Noi facciamo il nostro lavoro e fin lì sono d'accordo a un certo punto, perché il calcio e il centrocampo non è fatto solo per difendere, è fatto anche per attaccare, sia per servire gli attaccanti, ma anche per segnare, ragazzi, perché avere 20-25 gol su tutti i centrocampisti nel corso di una stagione in più, ti fanno fare la differenza nella maniera assoluta. Cioè, non è che se tu arrivi a fine anno e hai 5 gol da parte dei centrocampisti e ce n'hai 25, cambia tutto. Quindi, stiamo facendo il nostro lavoro, va bene, ma da un punto di vista difensivo, offensivamente non stiamo facendo nulla, ok? Il nostro lavoro qual è? Quello di recuperare palla, stare ordinati e far giocare la squadra. Allora, recuperare palla già sì e no, ok? Stare ordinati, anche qua ci sarebbe un po' da discutere, e soprattutto far giocare la squadra. Ma cosa fate giocare? Cosa fate giocare? Che andiamo a Milano e riesce a fare un tiro quadrato in 80 minuti. Ma dove sta tutto il gioco della squadra? Continua, se riusciamo a fare gol, meglio. Ma per quello ci sono degli attaccanti che stanno facendo molto bene. Allora, Rodrigo, e questo è un invito che do a tutti i centrocampisti della Juve. I gol, non è che se riusciamo a fare gol, voi dovete anche fare i gol, ok? Io non dico che uno deve fare un gol, un centrocampista, uno dei centrocampisti deve fare almeno un gol a partita, ma mi sta bene. Ma ogni 3-4 partite un gol riusciremo a farlo tra tutti i centrocampisti che abbiamo. Per quello ci sono gli attaccanti. Il problema, sai qual è, Rodrigo? Il problema è che se tu continui, se comunque la filosofia della squadra e l'idea del centrocampo è che ci sono gli attaccanti che fanno i gol e fanno solo loro i gol, nel momento in cui si inceppano gli attaccanti, e questo ne avevo parlato in un video precedente, quando i vari Di Bale, Iguain e Dagras Costa hanno le difficoltà, la squadra non segna più, non segna. Gli unici che possono segnare, se non ci sono loro, sono o Ronaldo o i difensori centrali, perché poi i laterali difensivi non ne parliamo. Quindi, infatti, nell'ultima partita cosa vediamo? Vai a vedere il tabellino, c'hai o gol di Ronaldo, o gol di De Ligt, segna Bonucci, o ha segnato De Miral purtroppo prima di infortunarsi a Roma, eccetera. Basta, perché il centrocampo non segna mai. Ma è mai possibile che si arriva dopo 8 anni di vittorie nella situazione in cui abbiamo il centrocampo che segna meno, penso, della storia del calcio. Ma io non lo so, ma dove si può pretendere di arrivare con una situazione del genere? Il centrocampo non è fatto solo per difendere, ma siamo nel 2020, lo dico. Ma tutte le squadre hanno un modo di giocare piuttosto offensivo, i top club d'Europa, piuttosto offensivo, con tutti i giocatori che siano completi quasi o quasi in ogni reparto. Ma è mai possibile che non si riesce a fare un gol da parte di questo centrocampo? I gol che possono fare i centrocampisti aiutano tantissimo la squadra a vincere le partite. Perché poi il problema, sapete cos'è? Che se tu hai una rosa dove gli attaccanti segnano, i centrocampisti ogni tanto segnano, eccetera, 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 i centrali di difesa qualche gol lo fanno. Gli avversari che tu hai contro, sapendo che comunque ci sono pericoli offensivi che arrivano da parte sia dell'attacco ma anche poi del centrocampo, devono uno star più attenti e due hanno poi più paura, no? È logico perché, sai, se tu non ti segna l'attaccante, ma c'è un centrocampista buono che ha già 7-8 gol in campionato o 7-8 gol in stagione, devi stare attento a tutto. Ti arriva un tiro da fuori, un'incursione da parte del centrocampista, eccetera. La squadra deve sistemarsi in un certo modo, la squadra avversaria, ma dal momento in cui tu, squadra avversaria che giochi contro la Juve, sai che questi non segnano mai a centrocampo, allora devi limitarti, per non subire gol, praticamente devi limitarti a due cose. Una è non fare in modo di limitare gli attaccanti. e due, cercare sui calci piazzati di stare attento a che non segnino i difensori centrali. Fine, fine della storia. Tu riesci a fare quella cosa lì, basta, la Juve è fermata, perché tanto il centrocampo non segna mai, quindi il centrocampo è come se gli avversari a livello offensivo il centrocampo non se lo guardano neanche, anzi, se hanno da tirare da fuori, tira pure da fuori, che tanto o la parla al portiere, oppure tirano fuori i centrocampisti. Ma capite com'è la situazione qua? Abbiamo dei punti deboli che sono, ma clamorosi, io vorrei veramente, non c'ho tempo e non c'ho testa, ma vorrei mettermi lì e vedere. Nelle ultime, appunto, 23 partite, quante squadre in Serie A hanno fatto almeno più di due gol in campionato da parte dei centrocampisti. Io vorrei vedere una cosa del genere. Però molto probabilmente in tutta la Serie A saremo gli ultimi, se non considerando magari le squadre che sono negli ultimi posti in classifica. Cioè, ragazzi, ma è una roba allucinante. Un centrocampista formato da calciatori che sono solo ed esclusivamente, con propensione di possesso palla, neanche eccelso, e con propensioni difensive. Ok? Perché la verità è quella. Oppure, i giocatori che dovrebbero dare un input in più dal punto di vista offensivo stile a Ramsey, non stanno offrendo delle prestazioni convincenti. Cioè, anche Ramsey, non segna mai. L'ultimo gol che ha fatto negli ultimi quattro mesi è quel gol lì, mezzo sporcato e rubato a Ronaldo. Cioè, che tra l'altro ha tirato da un centimetro dalla linea della porta. Su. Cioè, capite bene, ragazzi. Perciò, voglio dire, spero di avertevi portato un ragionamento interessante, dove tra l'altro, appunto, partendo dall'intervista, su cui non sono d'accordo, sulle parole di Bentancur, viene fuori proprio questa enorme difficoltà del centrocampo. Cioè, è il problema, come dico sempre, che in questa stagione, questa problematica che abbiamo non si risolverà. Quindi, nelle prossime partite, sia da tutta la stagione, dall'inizio della stagione, ma ancora in tutte le partite che dovranno arrivare, avremo e dovremo subire il peso di questa condizione che non ci aiuta in nessun modo. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi. Speriamo che facciano qualche gol in più, ma io non ci credo. Ogni partita adesso spero e voglio vedere un gol di un centrocampista. Almeno che facessero, tra tutti e sette, i centrocampisti facessero un gol ogni sei partite. Di mezzata, almeno questo trend, perché un gol ogni dodici è una roba che non si può vedere. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.